L'epidemia in corso in Italia non è esattamente come quella che si è verificata in Cina e non credo sia scontato che il nuovo coronavirus si diffonderà in maniera sostenuta anche al sud perché, mappamondo alla mano, stiamo notando una diffusione da est a ovest e viceversa piuttosto che da nord a sud. Se guardiamo appunto il globo vediamo che il virus ad esempio non si è diffuso in Russia come nemmeno in Africa. Non sappiamo ancora perché. Forse è un fattore legato alle temperature? Forse no. Ma è un elemento che ha senso tenere in considerazione. Lo ha detto in un'intervista alla DN Kronos Salute Robert Gallo, fra gli scopritori, negli anni Ottanta, del virus dell'AIDS e del primo test per diagnosticare l'HIV, oggi direttore dell'Institute for Human Virology presso la University of Maryland, USA.